cordiera oggi voglio spiegarvi come montarla nel modo giusto perché ci sono un po di accorgimenti un po di cose che molto spesso non pensiamo ma sono fondamentali tante volte la montiamo un po così come va va e va bene lo stesso ma invece montare bene la cordiera montarla nel modo giusto e avere quegli accorgimenti che ci vanno è importantissimo per avere un suono migliore un suono bello di rullante la cordiera per il nostro suono di rullante ci fa tantissimo ho trovato questa cordiera qua che è una cordiera drum sound splittata da 16 fili no quanti sono sì da 16 fili 8 più 8 vi vorrei anche chiedere se volete se vi interessa un video comparazione tra una cordiera splittata come questa e una cordiera normale da 20 fili come siamo abituati ad usare sempre fatemi sapere se vi interessa questa cosa così almeno vi preparo un video detto questo dopo avervi ricordato di iscrivervi al canale di cliccare la campanellina cose dopo avervi ricordato questo è importante di andare su telegram perché è nato il nuovo canale telegram gas tube drums possiamo partire ovviamente la cosa da fare adesso è girare subito il rullante al contrario per andare a posizionare la cordiera nuova il primo consiglio che vi voglio dare quando dovete cambiare la cordiera è questo andate a tirare giù la levetta del tendicordiera perché perché in questo modo nel momento in cui andrete a montare la cordiera avrete poi la possibilità di tirarla tramite questa ghiera dopo lo vedremo come volete come vogliamo se invece andiamo a montarla con il tendicordiera su cioè con la levetta in alto sarà molto più difficile riuscire a gestire il tutto e riuscire a tirare la cordiera veramente come si vuole si potrebbero avere un po' di problemi in più quindi tiriamo giù la cordiera giriamo il rullante al contrario e partiamo ora andiamo a prendere la nostra cordiera una cosa che ovviamente per quelli che suoneranno la batteria già da un po' sembrerà stupida ma perché le prime armi non così tanto posizionatela dalla parte giusta la cordiera da una parte è in questo modo come potete vedere da una parte è proprio la zigrinatura di questi fili diciamo e questa zigrinatura qua deve andare a contatto con la pelle occhio a non montarla al contrario perché se no non suona dopo aver posizionato la cordiera sul rullante andiamo ad infilare questi fili o fascette poi dipende qualche cordiera i fili qualcuna le fascette comunque andiamo a posizionarle all'interno di questi posti diciamo appositi per mettere la cordiera quindi svitiamo le viti andiamo a di stai zitta ti prego andiamo ad inserire scusate raga andiamo ad inserire questo filo della cordiera queste fascette della cordiera e poi tiriamo un pochettino ma non così tanto facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte quindi molto semplicemente la cosa che ho fatto è stata quella di andare a mettere la cordiera all'interno del posto apposito diciamo sia da una parte sia dall'altra parte come potete vedere se mi mette a fuoco ti prego ho tirato le viti solamente con le mani il più possibile ma solamente con le mani perché tirandole solo con le mani ho ancora la possibilità di spostare un pochettino la cordiera a destra o a sinistra della mia pelle quando la posizionate però non posizionatela perfettamente in mezzo qualcuno adesso nei commenti mi insulterà ma se voi la posizionate perfettamente in mezzo e poi dopo andate a tirare con il tendi cordiera il tendi cordiera tenderà a spostarvi un pochettino la cordiera verso di lui perché ovviamente tira verso di sé la cordiera quindi se la posizionate un po in mezzo nel momento in cui andremo a tirare con il tendi cordiera la cordiera si sposterà da in mezzo e andrà un po di lato invece voi andate a posizionarla un pochettino dal lato opposto quindi la posizionate un filino dal lato opposto in modo tale che nel momento in cui tenderemo il tendi cordiera andrà a stabilizzarsi perfettamente in mezzo e quindi avremo un suono migliore sicuramente quindi adesso posizioniamolo come vi ho appena detto e poi andiamo a tirare bene le viti con la chiavetta potrete vedere che la mia cordiera è perfettamente in mezzo è perfettamente in mezzo a questo punto la cordiera è montata il nostro rullante è praticamente a posto la cosa su cui dovremmo andare ad agire adesso è questo tendi cordiera qua cioè questa ghiera e praticamente come funziona più andiamo ad avvitare questa vite qua più la nostra cordiera si alzerà e quindi i fili della cordiera andranno sempre di più ad attaccarsi alla pelle risonante questo cosa significa questo significa che più sono attaccati più la cordiera avrà vibrazioni veloci perché sarà molto più attaccata e quindi avremo un suono più secco io questo lo consiglio soprattutto nel momento in cui abbiamo un suono alto di rullante cioè un'intonazione alta un rullante molto tirato e andando a tirare tanto la cordiera riusciremo ad ottenere un suono molto secco e molto definito iscriviti al nostro canale nel momento in cui pian pianino andiamo giù di intonazione corullante cioè tiriamo sempre meno la nostra pelle battente e risonante il consiglio che do è di mollare anche un pochino la ghiera perché mollando la ghiera praticamente andiamo ad abbassare sempre di pochissimo non stiamo parlando di centimetri stiamo parlando di millimetri neanche quindi i fili della cordiera tenderanno sempre di più ad allontanarsi e fare meno contatto con la pelle risonante e questo significa che la cordiera sembrerà slabbrare un po di più in realtà non è che slabbra secondo me ma io dico che quando la cordiera suona un po di più quando si sente un po di più e quindi è molto meno secca e definita come prima respira di più e quando vogliamo un suono più pieno più basso secondo me è importante far respirare tanto la cordiera più andiamo giù con l'intonazione più la cordiera deve respirare se noi abbiamo un suono basso con il nostro rullante e teniamo la cordiera secca non funziona lasciamolo respirare il nostro rullante allunghiamo un po la corda tramite la cordiera in modo tale da avere un suono molto più figo e molto più pieno e ciccioso detto questo comunque voi fate un po di prove provate un po di cose a tirare un po più la cordiera a tirarla un po meno ad usare una certa intonazione con la cordiera tirata in un modo con la cordiera tirata in un altro provate a fare un po di cose in più qui sotto nei commenti scrivetemi altre informazioni perché io oggi vi ho raccontato un po la mia esperienza diciamo ma voi ditemi la vostra qui sotto così almeno mi dite guarda a me piace un sacco usare rullante tirato in questa maniera con la cordiera mollissima perché secondo me ha quel tipo di suono non lo so sparo a caso ma voi scrivetemi le vostre considerazioni che sono super super importanti mi raccomando scrivetele bene così almeno anche il vostro commento può aiutare tutta la community può aiutare me perché scopro cose nuove ma potete aiutare anche tutti quelli che leggeranno il vostro commento in più vi chiederei anche di farmi sapere qui sotto nei commenti e anzi farmi sapere magari con un mi piace perché più mi piace ci sono più vuol dire che questi video vi piacciono fatemi sapere cosa ne pensate di questi video da zero diciamo video che potrebbero sembrare per principianti e sono anche per principianti sono anche per chi proprio parte da zero con la batteria ma possono servire anche a quelli un pochettino più avanzati quelli che suonano già da un po più di tempo non lo so fatemi sapere se appunto questi video da zero vi servono oppure vi fanno schifo fatemelo sapere in più io vi ricordo di iscrivervi al canale io vi vi saluto cosa devo ancora dire niente quindi noi ci vediamo direttamente al prossimo video ciao